E' partita ufficialmente dall'Istituto Comprensivo Savini, San Giuseppe e San Giorgio la seconda edizione di Il Più Forte Sono Io, progetto promosso dal prefetto di Teramo, Walter Crudo per prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo in ambito scolastico. E' un dire no alla violenza di genere, non ci scordiamo appunto che il bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti sono comunque due problematiche connesse a quella che è la violenza, o su se stessi o su terzi. E' un progetto impegnativo per tutti coloro che fanno parte proprio del team però sicuramente la positività del progetto sia nel rapporto con gli studenti e soprattutto con tutto ciò che è il sociale perché sono forme comunque sia bullismo che spaccio di sostanze stupefacenti che hanno a che fare con il disagio sociale in generale. Impegnati un team di qualificati operatori della prefettura, dell'ambito territoriale, della ASL, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, della Polizia Postale e delle Comunicazioni ed Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Tra le principali novità dell'iniziativa una maggiore offerta formativa per gli insegnanti referenti, incontri mensili in prefettura su vari aspetti e ferentile, fenomenologie trattate. Infine l'inclusione anche di classi delle scuole elementari. 21 quest'anno le scuole partecipanti rispetto alle 18 della scorsa edizione. Noi cerchiamo di spiegare ai ragazzi quali sono le conseguenze di alcuni comportamenti che si possono mettere in atto anche utilizzando la rete. In particolare collegato a questo progetto, proprio riferito al bullismo, quello che poi diventa cyberbullismo, quindi tutti quei comportamenti che si possono poi replicare su internet, quindi il video, la minaccia, tutte quelle frasi che si possono scrivere oppure inviare tramite i vari social network o anche via mail, e così rimangono di fatti permanentemente su internet e poi sono difficilmente cancellabili. Quindi tornare indietro comincia a essere complicato.